Secondo gli esperti di Trebi Meteo da settimana prossima cambierà nuovamente il clima sulla nostra penisola a partire dal nord dove gran parte della penisola, soprattutto le regioni centrali e meridionali adriatiche, saranno interessate da passaggi temporaleschi e un netto calo delle temperature. Già da lunedì il caldo si attenuerà al nord e su parte del centro mentre al sud si registreranno ancora a punte fino a 40 gradi, poi tra martedì e mercoledì la diminuzione sarà netta anche al sud con temperature che scenderanno anche di 10 gradi rispetto al lunedì. Grazie a tutti!